Il compianto Tiziano Terzani ci ha trasmesso questa storia dall'India. Un re va da un famoso saggio nella foresta. Dimmi, qual è la natura del sé? chiede. Il vecchio lo guarda e non risponde. Il re ripete la domanda. Il saggio non risponde. Il re chiede di nuovo la stessa cosa, ma il saggio resta muto. Il re si arrabbia e urla, io chiedo e tu non mi rispondi. Tra volte ti ho risposto, ma tu non mi stai a sentire, dice calmo il saggio. È difficile oggigiorno trovare condizioni dove il silenzio manifesta la sua presenza, a meno che non ci allontaniamo dalla città e ci adentriamo in posti di natura dove l'eco della civilizzazione è lontana. Immerderci in quel silenzio di qualità ci ricorda che esso non è assenza, non è morte, piuttosto è la matrice da cui sorge il suono. In quelle condizioni la mente si dilata e si calma. Ancora più difficile è trovare il silenzio interiore, di cui in un certo senso forse abbiamo anche paura e che per questo occultiamo sotto una valanga di suoni di scarsa qualità. Se lo intendiamo in senso metafisico, solo quando accogliamo il silenzio nel nostro spazio interiore possiamo accedere alla vera natura della consapevolezza, che è molto di più che gli infiniti pensieri che la attraversano, ma è lo spazio che li accoglie, da cui essi sorgono e in cui svaniscono. Abbracciare il silenzio significa anche smettere di lottare contro i vortici di pensieri, emozioni, ricordi, proiezioni nel futuro che molto spesso non sono per niente utili e quindi generare una prospettiva da cui poterli vedere così come sono, nella loro natura impermanente, fremiti e agitazioni della sostanza della mente a cui con la pratica cessiamo di reagire, osservandoli nel silenzio. Ti invito per qualche minuto a sperimentare questa posizione della coscienza, nucleo essenziale di ogni pratica di consapevolezza. Useremo il sorgere, sostenersi e svanire dei suoni di alcune campane tibetane per sperimentare il silenzio che li contiene, li nutre e poi li riassorbe. Siediti comodamente, chiudi gli occhi, fai qualche respirazione profonda. vs. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti